la birra di oggi è una ipa di un birrificio italiano realizzata con lieviti kvike vediamo subito la scheda tecnica di questa birra scheda che non è stato è semplicissimo realizzare soprattutto per reperire alcune informazioni il birrificio in questione è appunto bibi beer anche se questa la tiene prodotta da mister b che è un altro birrificio di mantova su bibi beer appunto ho avuto difficoltà a reperire informazioni perché manca il sito internet nel 2020 la birra in questione si chiama bo kvike ipa bosta per brew one it kvike ipa lo stile quindi una ipa un ipa grado alcolico di questa birra 6,3 gradi il prezzo non ricordo con esattezza l'ho acquistata ad un beer shop nel milanese poco più di 3 euro era questa lattina bicchiere suggerito per questa ipa è una pinta e sì si tratta di un primo assaggio allora innanzitutto ho scelto di fare questo video con questa lattina per parlare finalmente del lieviti kvike è un argomento per me piuttosto nuovo che ho scoperto meno di un anno fa credo frequentando un po diversi ambienti legati all'ombrio wing dove ho scoperto che appunto è esplosa questa nuova questo nuovo interesse verso questi questi lieviti innanzitutto facciamo una piccola introduzione i lieviti kvike sono dei lieviti di origine norvegese siamo nel nord europa che sono spesso associati a una famiglia sono ceppi diversi con nomi diversi legati a ciascuna famiglia una famiglia al suo cioè poi lo tramanda ai figli ai nipoti e così via non è una specie vera e propria di lievito a te a proposito vi rimando alla puntata in cui abbiamo parlato delle differenze tra genere specie e ceppo di lievito facendo quindi le delle distinzioni tra bretanomiceti saccaromiceti all'interno del genere saccaromices quali sono le diverse specie cerevisie e pastorianus eccetera e all'interno della diversa specie quali sono i diversi ceppi vi metto la scheda qui così se viva potete recuperare quella puntata quindi come dicevo non si tratta di una specie vera e propria di lievito ma si tratta di un mix di diverse specie e diversi ceppi di saccaromiceti sono appunto familiari quindi legati a un posto una famiglia perché appunto questo mix che è stato negli anni selezionato da questo ceppo familiare viene poi tramandato quindi sarà diverso dal mix di un'altra famiglia e così via le caratteristiche quindi che accomunano tutti questi diversi ceppi che poi in fermentazione hanno anche profili piuttosto differenti comunque alcune delle caratteristiche che gli accomunano sono innanzitutto il fatto di lavorare ad alte temperature che può sembrare strano e a me infatti sembrava molto strano che ceppi di lievito che lavorano ad alte temperature ma stiamo parlando di 30 35 c'è un ceppo di cui non ricordo un nome che addirittura si è visto riesce a lavorare fino a 43 gradi ed è un po strano che questa cosa avvenga in Norvegia infatti io la trovavo un po' strana poi leggendo un po' di informazioni in particolare vi rimando a c'è una bella serie di puntate su car brewing il podcast appunto legato all'home brewing in cui si parla di questi ceppi e una cosa che spiegava Andrea il ragazzo che ha gestito queste puntate era che uno dei motivi per cui si raggiungono temperature così alte perché dopo la bollitura quando la temperatura del mosto è ancora elevata si fa l'inoculo di questi kvike e poi si tende a coprire proprio con una coperta fisicamente il tino dove c'è il fermentatore diciamo o il tino dove si fa fermentare comunque la birra per mantenere la temperatura alta altre caratteristiche comuni a tutti i kvike è anche la fermentazione piuttosto veloce cioè in pochi giorni si riesce già a completare tutta la fermentazione sempre per stare sulle caratteristiche che accomunano i diversi ceppi cosa c'è da dire beh innanzitutto sono indicati come lieviti con una buona flocculazione e che aiuta ad avere anche birre pulite perché fa precipitare tutto il residuo di lievito esausto e hanno anche una discreta tolleranza all'alcol indicando alcuni ceppi una resistenza fino a 14 gradi quindi a 14 parti di alcol su volume totale che per certi lieviti non è affatto poco per quanto riguarda la caratterizzazione che dà il lievito beh qui dipende ovviamente dal ceppo perché a quanto pare cambia molto da un ceppo con l'altro l'ultima caratteristica comune a questi lieviti kvike è anche il fatto che si possono conservare perfettamente per essicazione cioè è possibile rimuovere proprio dalla parte superficiale del mosto lo strato diciamo di fermentazione attiva ed essiccarlo proprio essiccarlo in forno e riuscire a tenere così queste lamelle comunque questa parte di lievito essiccata che può essere conservata all'asciutto ma conservata e poi riutilizzata, riattivata e riutilizzata per una fermentazione successiva da qui deriva proprio il fatto che il ceppo sia familiare, selezionato negli anni e tramandato in questo modo molto semplice di generazione in generazione se volete avere informazioni più precise, più approfondite su ciò che riguarda i lieviti kvike ed eventualmente se vi interessa anche sperimentare l'utilizzo nelle vostre esperienze casalingo brassicole per citare un famoso ombriore con questi lieviti kvike vi rimando al gruppo facebook esperienze kvike ita dove sono descritte alcuni tutorial su come utilizzarli, alcune guide e soprattutto potete fare tutte le domande che volete su questi lieviti che trovate gente molto preparata che vi saprà dare indicazioni ben più precise di quello che possa fare io in pochi minuti di video adesso ricordo che qualche mese fa ho avuto modo di parlare con un ragazzo norvegese in vacanza in Italia che lavorava in un pub in Norvegia parlando gli ho chiesto ovviamente dei lieviti kvike e mi ha detto che ovviamente è una cosa più conosciuta e già da qualche anno molti microbi e rifici locali stanno sperimentando l'utilizzo diciamo un po' più su larga scala di questi lieviti mi ha confessato però che molto spesso è stato comunque un periodo un po' di moda in cui tantissimi produttori indicavano sulle proprie birre l'utilizzo di lieviti kvike anche su birre poi particolarmente caratterizzate come le ipa e anche lui lamentava la moda delle birre ultra rupolate anche in Norvegia e di conseguenza quello che mi diceva è non so se a un certo punto è più una moda scrivo kvike poi faccio comunque birre stracariche di luppolo e l'apporto che potrebbero dare questi lieviti si va a coprire poi da luppolature esagerate o particolarmente generose e di conseguenza il produttore vende perché ok c'è questo interesse in questo momento per questi lieviti ma non è detto che sia caratterizzante come può essere un lievito belga ora era una sua impressione comunque che ho pensato di riportare perché comunque una persona che lavorava, cioè lavora ancora in quel settore lavora in Norvegia quindi poteva essere uno spunto di riflessione anche questo tornando però sulla lattina che vorrei degustare oggi a proposito sulle differenze birre in bottiglie di vetro, birre in lattina ho dedicato un paio di puntate vi rimando soprattutto quella magari in cui ho degustato la neipa di crack in cui c'è stata una breve introduzione ma secondo me abbastanza esaustiva sulle differenze vetro e alluminio comunque lattina come vi dicevo la lattina ha una singola etichetta unica il birrificio in questione è appunto BBbeer ho fatto davvero molta fatica a trovare informazioni volevo leggere qualcosa sul sito del produttore ma nel 2020 questo produttore non ha un sito internet a dire il vero c'è un sito riportato qui sul retro ma è scaduto il dominio comunque manca completamente il dominio non esiste inserendo questo link nel browser ma non esiste proprio il sito di questo produttore c'è solo una pagina facebook questa cosa unita al fatto che questa serie come viene riportata sul retro si chiama B.O.H. Brew One It Series e come viene scritto è una serie dedicata a birre appunto fatte una sola volta e la frase che c'è sotto questo acronimo che è appunto B.O.H. è chissà cosa succederà questa volta facciamo una B.O.H. qui mi viene spontanea una considerazione birrifici molto piccoli che appunto cercano di giustamente sfruttare la moda del momento l'interesse del momento verso questi lieviti e fare una birra, una IBA, guarda caso sempre per stare sulle mode delle birre lupolate con questi lieviti ma una birra che già si presenta come fatta una one shot per così dire di un birrificio che non ha nemmeno il tempo per fare un sito internet quindi per rendersi mezz'ora un giorno e realizzare un sito internet e dedicare magari una paginetta con una foto della birra che hai fatto e scrivere che cos'è mi fa pensare che appunto ci sia questa rincorsa all'ultima moda ma magari fatta con una certa superficialità è una considerazione ovviamente personale prima di andare a bere questa birra che appunto non ho mai assaggiato e non so che cosa aspettarmi ma appunto il fatto che non ci sia questa cura per semplicemente la presentazione del proprio birrificio attraverso banalmente un sito internet esiste una pagina Facebook ma appunto Facebook non è un sito internet non ha lo stesso livello di professionalità per chi si deve presentare soprattutto secondo me attività commerciali come birrifici mi fa pensare che magari se non c'è cura dall'aspetto diciamo più formale potrebbe non esserci particolarmente cura poi anche nell'aspetto di realizzazione della ricetta spero di essere smentito spero di avere solo io pregiudizi perché appunto manca addirittura il sito internet staremo a vedere quindi non ci resta che aprirla e scoprire ok 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 Allora non avendo la bottiglia di vetro ovviamente non riesco a vedere quando arrivo al deposito che giustamente si forma in tutte le birre non ovviamente microfiltrate pastorizzate infatti un pochino di lievito è caduto e si è depositato sul fondo tutto sommato la birra comunque resta piuttosto limpida il bicchiere non è pieno completamente perché questa è una lattina da 33 mentre questa è una pinta inglese questa è del birrificio Robinson della birra che aveva fatto per gli Iron Maiden e quindi le pinte inglesi sono da 56.8 mentre appunto qua siamo sui 33 centilitri passiamo quindi all'analisi visiva di questa birra passendo dalla schiuma la schiuma è abbastanza persistente perché l'ha versata appunto già da quasi un minuto poco più di un minuto ed è ancora piuttosto compatta di un colore bianco con una texture irregolare il colore della birra è un direi giallo abbastanza intenso leggermente velata paglierino abbastanza carico ma leggermente velata al naso è secondo me una IPA molto tradizionale con evidentemente luppoli americani c'è principalmente una parte resinosa di luppoli e un leggero agrumato quindi senza sapere che tipo di luppolo ci sia di luppoli ci siano all'interno sicuramente posso pensare a luppoli americani ok andiamo a vedere sul retto della lattina perché sono indicati effettivamente allora riporta l'utilizzo di leviti kvai fermentati a 32 gradi come dicevamo temperature elevate non vengono indicati luppoli utilizzati in bollitura ma vengono indicati luppoli del dry hopping e sono eureka e mosaic quindi sì siamo appunto in quella direzione luppoli americani con profumi appunto resinosi fruttati frutta tropicale agrumi e così via vediamo quindi in bocca com'è anche in bocca più o meno ritroviamo quello che ci aspettavamo un'apertura maltata non eccessivamente dolce è un bel finale amaricante persistente con gli essessi sapori l'unica cosa che emerge sull'amaro finale c'è poi secondo me sul retrogusto una buona buona una discreta persistenza di frutta acerba non saprei indicare esattamente cosa ma appunto c'è questa persistenza di amaro quel tipo di amaro appunto legato a probabilmente frutta acerba c'è anche un leggerissimo leggerissimo sul retrolfatto secondo me sentore di pane che è un po' strano forse sulle ipa su questo tipo di birra ma a me non dispiace forse perché è più tipico in effetti di birra della tradizione belga comunque è un po' strano sì però non è particolarmente invadente tutto sommato appunto una ipa abbastanza classica se proprio dobbiamo concentrarci possiamo vederla un po' più sbilanciata verso l'amaro del lupolo piuttosto che l'inizio boccato e dolce del malto ma tutto sommato secondo me è una ipa molto standard come anticipato dal mio amico norvegese effettivamente in questo caso secondo me l'apporto dei lieviti Kvike non si sente più di tanto forse perché su birre che hanno una caratterizzazione comunque così elevata con tanto lupolo, tanti lupoli anche in dry hopping forse si vanno a perdere poi tutte le caratterizzazioni che può dare il ceppo di Kvike utilizzato sarebbe appunto interessante assaggiare altre tipologie di birre magari più delicate per vedere quanto è l'apporto che può dare questi lieviti perché in questo caso con lupolatore così generose cioè l'intensità aromatica è davvero elevata di questa birra aprendola e versandola già mi arrivava tutta la parte resinosa del lupolo al naso quindi insomma il lupolo va tanto soprattutto in dry hopping va tanto a coprire secondo me quello che potrebbe essere poi la caratterizzazione di questo lievito particolare infatti leggendo molte delle ricette fatte dagli homebrewer noto che quasi sempre si tratta di birre più delicate pale ale, golden ale esperimenti anche su ricette da bassa fermentazione da lager ma fermentate con Kvike quindi a temperature quasi triple rispetto a quelle per cui si fanno solitamente le pills o comunque delle basse fermentazioni insomma cercare di avere birre poco caratterizzate dal punto di vista delle materie prime eccetto il lievito per lasciare più spazio ovviamente al lievito di produrre tutti quei prodotti caratterizzanti che sono tipici appunto di quel particolare ecceppo di lievito e possono rendere magari più interessante il Kvike rispetto a altri lieviti questa appunto era la Kvike IPA di BB Beer e Mr. B Skol il Kvike rispetto a tutti